Mercoledì, che giorno è? Oggi è il 13, come faccio a non ricordarmi che è il 13? Oggi è mercoledì 13 maggio 2020, benvenuti, bentornati, nuovo appuntamento con AniPadGuy prosegue il nostro continuo aggiornamento e avvicinamento a quello che in sostanza è l'evento tecnologico più importante del 2020 abbiamo indubbiamente qualcosa di positivo perché oramai riusciremo forse a capire quello che sarà anche un pochino il futuro di un'azienda che di anno in anno sta iniziando sempre più a sviluppare parecchie robe perché comunque abbiamo visto come il 2019 da parte di Apple è stato un anno abbastanza importante per quanto riguarda tutto il sistema, chiamiamolo, tecnologico globale tutto ciò che l'azienda sta in ogni caso portando avanti e secondo me in questo 2020 l'azienda potrebbe in un modo o nell'altro farci vedere qual è il suo futuro e quindi ne stiamo parlando perché comunque il mese di maggio per Ioetec è questo è maggio S, abbiamo iniziato a parlarne già parecchio tempo fa abbiamo iniziato ovviamente a parlarne la scorsa settimana quando abbiamo iniziato ad avvicinarci all'evento che oramai sappiamo si terrà il 22 di giugno però tra le varie cose in questo 2020 ci saranno poi una serie di limitazioni anche date dal periodo e vedremo se magari l'hardware si distanzierà o si avvicinerà al software benvenuti alla 250esima puntata di Ioetec un bel traguardo per un podcast che è nato forse in sordina 4 anni fa è un qualcosa che onestamente non pensavo di arrivare a festeggiare con tanta enfasi con tanta voglia di continuare questo progetto per cui poi ci sarà modo magari di ringraziarvi a conclusione di questa puntata però direi che ovviamente non può essere una puntata speciale perché comunque siamo in viaggio abbiamo iniziato appunto 7 giorni fa abbiamo parlato di iOS 14 lunedì nella puntata di An iPad Guy abbiamo parlato ovviamente della versione per iPadOS sempre di quello che verrà a partire dal mese di ottobre di settembre e ottobre e poi oggi in realtà parliamo di Mac mettiamo la sigla e poi ovviamente andiamo Saluto Giovanna che è arrivata in chat e ci fa compagnia oramai come tutti gli ultimi mercoledì a questa parte vi ricordo che IoTeC è sempre in diretta ogni mercoledì alle 17 per parlare di tecnologia e oggi lo facciamo con MacOS quest'anno secondo me come sistema operativo Apple deve iniziare a capire veramente la direzione in cui vuole far andare i suoi software per una serie di motivi perché in ogni caso partendo da quelli che in realtà sono stati tutti i discorsi che abbiamo fatto sette giorni fa appunto c'è stata forse la questione legata appunto ad un qualcosa ad un meccanismo che si è rotto sappiamo benissimo in realtà ne abbiamo parlato anche precedentemente come anche la stessa Apple sta iniziando a rivedere un pochino i progetti che evidentemente ha messo in campo perché è proprio palese come in realtà l'azienda ha iniziato a rompersi cioè proprio l'azienda magari no però comunque alcuni suoi processi hanno iniziato comunque a distruggere un qualcosa di oramai rodato ma la cosa abbastanza importante è proprio questa quella di riuscire magari a far uscire dei sistemi operativi che già a partire da settembre siano in realtà ben congeniali perché comunque tra le varie cose va bene mi va bene comunque un sistema operativo che mi porta delle migliorie però magari se io scelgo un'azienda come Apple per oramai fare qualsiasi cosa attualmente in questo periodo ne parlavamo anche un paio di settimane fa nonostante comunque alcune maglie che si stanno allargando però comunque la tecnologia ci sta aiutando a continuare a mantenere comunque un rapporto costante la tecnologia sicuramente ci ha aiutato in questo progetto magari chi sceglie prodotti Apple magari lo fa anche per poi avere un riscontro a partire se vogliamo proprio dalla costruzione del software così non è stato per iOS 13 così soprattutto non è stato per macOS Catalina Catalina che è uno forse degli aggiornamenti più disastrosi ha portato Project Catalyst sicuramente uno dei punti a favore di un ecosistema condiviso Project Catalyst di cui poi parleremo nel dettaglio durante l'inizio del mese di giugno prima dell'evento però sicuramente un sistema operativo che ha dato problemi a tanta gente ovviamente sentivo anche negli scorsi giorni persone che hanno dovuto interrompere una routine per la quarantena una routine di uno streaming multipiattaforma che si è dovuto interrompere proprio a causa di macOS Catalina che in un modo o nell'altro ha fatto rompere qualcosa ha fatto rompere questi meccanismi e quindi speriamo che Apple come linea generale in questa WWDC 2020 in un modo o nell'altro riesca a buttare fuori un qualcosa di solido che poi alla fine riesca a far piacere anche ai propri clienti perché onestamente penso anche poi a quella che è magari una sintonia con un'azienda che evidentemente appunto porta fuori questi prodotti ma che poi evidentemente lo stesso e sto continuando a ripeterlo ovviamente anche ironicamente un pochino come fosse il tendenzialmente di Shai diciamo che tra una cosa e l'altra ragazzi bisogna avere anche un pochino di buon senso perché io che non mi sono trovato malissimo con il mio MacBook Pro e appunto macOS Catalina però le persone che sono trovate male con Catalina cosa fanno? mettono in sostanza un pochino ancora di ostilità nei confronti del nuovo sistema operativo e quindi magari mi tengo un qualcosa che funzionicchia male oppure il giorno dell'aggiornamento butto fuori appunto butto subito sul computer quella che è l'evoluzione del sistema operativo che poi mi va a fluidificare tutto insomma magari è un qualcosa che Apple dovrebbe contenere in dovrebbe tenere in considerazione però siamo in una puntata di ImageOS e quindi abbiamo la solita lista con i soliti amici che ringrazio per avermi dato i loro contributi e poi ce n'è uno che ho aggiunto io e che magari qualche polemicuccia la farà spuntare fuori però è la cosa finale, è l'argomento finale e partiamo con una cosa che oramai mi sta qui ovvero iMessage la piattaforma di messaggistica che io utilizzo di più io ho comprato un Mac sostanzialmente nel 2015 per avere iMessage soprattutto era la cosa che su Windows mi mancava di più iMessage che nei tempi ha fatto grandissimi passi in avanti e ad oggi non abbiamo ancora se vogliamo MacOS con gli effetti di iMessage gli effetti, le applicazioni e tutto ciò che iMessage in un modo o nell'altro fa benissimo su iPhone e su iPad abbiamo appunto tutto ciò e quindi io mi auguro che l'applicazione di messaggistica proprietaria di Apple faccia un passo in avanti la cosa più importante è riuscire a rompere se vogliamo questo muro che l'azienda sta ponendo nei confronti del sistema operativo perché comunque il Mac e soprattutto iChat era un qualcosa che magari c'era già prima di macOS di macOS o addirittura di OS X da quando appunto c'è la prima versione di iMessage su Mac però comunque non abbiamo ancora quell'evoluzione che in realtà poi in altri campi Apple sta portando in avanti secondo punto che ovviamente è anche il primo punto di Andrea Bellini è la nuova applicazione musica che non abbia più nulla in comune con codice dell'iTunes in realtà io l'applicazione musica l'ho sempre trovata ottima e sostanzialmente porta se vogliamo in discussione un qualcosa che Apple sta riuscendo a portare avanti su più fronti il primo è la questione se vogliamo delle applicazioni condivise perché la la cosa più importante se vogliamo tra le varie cose è anche la la distonia no? quindi abbiamo un'applicazione per i podcast un'applicazione per la musica come già adesso avviene su iOS e su iPadOS e addirittura su watchOS e su tvOS tutto questo adesso ce l'abbiamo anche su Mac le applicazioni in un modo o nell'altro si assomigliano una podcast è fatta tramite project catalyst l'altra è fatta tramite musica e quindi abbiamo in sostanza un qualcosa che deve fare dei passi in avanti perché comunque musica tra le varie cose è ancora iTunes e come dice Andrea ci sarebbe c'è o meglio la possibilità di portare in avanti un progetto che appunto fa fare a tutte le applicazioni un passo in avanti e prima parlavamo ad esempio di iMessage e tra i vari rumors che davano praticamente per certa l'evoluzione della piattaforma e tra i vari punti a favore uno dei tanti era appunto la disponibilità se vogliamo di partire con la stessa applicazione quindi messaggi che sostanzialmente è appunto la stessa applicazione perché comunque è un'applicazione sviluppata con project catalyst e quindi avere l'applicazione per iphone e ipad condivisa anche su mac potrebbe appunto essere un nettissimo passo in avanti ovviamente andrea ricorda il potenziamento di catalyst quindi appunto cos'è catalyst ricordiamo nella piattaforma che consente agli sviluppatori in realtà apple dice con poche righe di codice di migrare applicazioni per ipad e per iphone anche su su mac apple aveva promesso comunque uno sviluppo in tre anni più uno diciamo così perché comunque il primo anno è stata comunque una piattaforma che è stata appunto sviluppata in house dalla stessa dalla stessa apple per buttare fuori comunque alcune sue applicazioni per esempio casa memo vocali l'applicazione borsa l'applicazione se vogliamo podcast che citavamo prima però in un modo o nell'altro apple ha fatto fare un balzo in avanti netto alla categoria perché comunque lo scorso lo scorso anno ha appunto dato agli sviluppatori le api e quindi un qualcosa di nuovo io me lo aspetto e quindi un passo in avanti è condivisibile ripeto non ne vorrei parlare in maniera sviluppata adesso perché comunque sarei troppo sintetico e su questo visto che è un macro progetto che potrebbe portare veramente l'ecosistema ad un nuovo livello dedicherò poi una puntata agli inizi di giugno per cui iscrivetevi al podcast continuate ad ascoltare perché sicuramente questo è un argomento abbastanza interessante e secondo me ne sentiremo delle belle sempre Andrea Bellini dice gestione finestre come windows 10 o app magnet per mac os quindi la possibilità di avere un sistema di di schermi diciamo un sistema di manovrabilità diciamo così dello schermo migrato appunto o da windows o da o da magnet che è un'applicazione scaricabile credo anche da app store però a questo punto mi ricollego anche con una cosa che ho detto lunedì nella puntata di an ipad guy che è comunque se vogliamo anche il modo che apple sta integrando anche in ipad os perché comunque alberto bagnoli diceva per esempio la possibilità di mettere tre applicazioni una di fianco all'altra sull'ipad da 12 pollici 9 sappiamo che in un modo o nell'altro apple sta portando avanti parallelamente appunto ipad e mac e da questo punto di vista io non posso ad esempio mettere più di due applicazioni sullo stesso schermo in realtà appunto apple mi dà la possibilità di gestire o due applicazioni o il sistema finestre ovviamente mac ha il sistema finestre cosa che sostanzialmente apple ancora forse mai metterà su iphone e soprattutto su ipad però comunque su mac io penso che in full screen restino appunto le due le due versioni ovviamente michele michele de paola dice run on arm quindi i processori che ovviamente già ottimamente apple sviluppa in casa per iphone per ipad e abbiamo un esempio lampante quest'anno perché nel 2020 apple ha fatto uscire un nuovo ipad pro con praticamente lo stesso processore che era presente nell'ipad del 2018 nell'ipad pro del 2018 quindi processori potentissimi si parla addirittura di un processore a 3 gigahertz che è il processore a 13 i a 14 che sarà il processore dei prossimi dei prossimi iphone dei quattro iphone che uscirà che verranno probabilmente presentati a settembre e che usciranno purtroppo tra ottobre e novembre mi permetto di sorridere perché comunque è forse l'iphone che voglio di più dall'iphone 4 quindi dal mio primo iphone e dovrò aspettare forse uno o due mesi in più del solito però ragazzi si aspetta anche perché non si può fare altro cosa abbastanza interessante è appunto l'evoluzione di questo processore perché è vero MinCQ settimana scorsa ha detto che tutti i portatili tutti gli ipad con display OLED display mini led anzi verranno spostati dall'autunno 2020 alla primavera 2021 e quindi questo spaccamento porterebbe magari anche a vedere appunto l'ipotetico processore a 14x che magari doveva essere messo già a partire da settembre nella terza versione dell'iPad Pro da 11 pollici e in realtà nella quinta versione dell'iPad Pro da 12.9 pollici appunto lo stesso processore con magari dei benchmark che farebbero impallidire qualsiasi portatile base di gamma con processore Intel ecco quel processore magari poi verrà presentato su Mac a questo punto credo o nella primavera del 2021 o magari poi per uno slittamento generale di tutto secondo me la prossima WWDC potrebbe appunto vedere vedere l'uscita ma magari Apple il Mac lo tiene appunto presentabile in primavera del 2021 per cui il nuovo sistema operativo che girerà su processore ARM sarà proprio appunto questo Mac OS che dovrebbe uscire qui al mese di giugno impostare le dimensioni del dock tramite un valore numerico dice sempre Andrea Bellini ed è comunque un qualcosa che mi stringe il cuore perché l'altro ieri ero lì cliccavo col mouse mi è esplosa la dock o il dock e non sono praticamente più riuscito ad avere la stessa dock per cui sono veramente in condivisione con lui come citavamo già la scorsa settimana per quanto riguarda iOS anche su Mac la possibilità di cambiare le icone quando viene attivato la modalità scura cambiare lo sfondo quando viene attivata la modalità scura io mi permetterò di suggerire ad Apple di mettere gli stessi sfondi condiviti tra iPhone iPad e Mac perché comunque c'è qualcuno e io sono uno tra quelli che appunto preferisce magari avere un solo sfondo su iPhone iPad e Mac per cui comunque avere la possibilità di gestire se vogliamo in maniera ottimale tutta la questione legata a legata ad iPhone e iPad ecco avere per esempio la stessa cosa su Mac potrebbe tranquillamente essere un un qualcosa di di veramente di veramente interessante anche se onestamente e lo dico nella puntata di Mac OS perché è il prodotto che sto scoprendo di più ultimamente la questione delle impostazioni condivise a me male non farebbe quindi io metto un'impostazione e questa mi viene traslata su iPhone iPad e Mac e magari anche Apple Watch continuando di questo poi parleremo anche in maniera specifica la prossima settimana stesse cose che citavamo anche la scorsa settimana per quanto riguarda in realtà il mondo di iOS e che sul mondo dei portatili che stanno diventando sempre di più delle working machine veramente potenti perché comunque se vediamo i processori i9 con tutto il casino che è successo tra il 2018 e il 2019 con i processori i9 di Intel c'è tutto questo pacchetto onestamente io lo trovo un pochino se vogliamo anche snervante perché comunque c'è una macchina potente e le macchine potenti alla fine cosa fanno si surriscaldano e si e si e si scaricano la cosa più importante è appunto quella vera e propria di avere un un vero e proprio cuore pulsante che può essere se vogliamo anche gestito in maniera ottimale perché comunque avere la possibilità di gestire la potenza del processore e quindi collegare poi la mera potenza del cuore del computer alla durata della batteria ecco questa cosa in un modo o nell'altro rompe un pochino gli schemi e quindi poi mi va in un modo o nell'altro a fare quello che Windows fa da anni con la gestione del risparmio energetico e qui Andrea dice benissimo i tre punti quindi la possibilità di mettere il risparmio energetico che per esempio va a disattivare anche Turbo Boost per cui l'overclock del processore che Intel permette di fare in realtà ci sarà una cosa simile che probabilmente vedremo entro la fine del mese quando Apple si degnerà di far uscire gli aggiornamenti dei vari sistemi operativi per cui da iOS 13.5 che dovrebbe in un modo o nell'altro implementare anche le API per quanto riguarda il tracking dei contatti per poi essere collegati ad esempio ad immuni ne abbiamo parlato due settimane fa e poi oltre a quello c'è anche ad esempio macOS 15.5 che tra le altre cose dovrebbe far trapelare una sorta di risparmio energetico base però io vorrei comunque la possibilità di controllare meglio il sistema operativo continuando ricarica programmata per una certa ora per cui io metto il mac o meglio connetto il mac alla corrente il sistema sa perché ora stacco oppure ancora meglio il mac sa a che ora mi sveglio perché ho impostato la sveglia magari su apple watch e quindi se io mi sveglio per quell'ora tutti i miei dispositivi per quell'ora devono essere carichi quindi anche questa questione della programmazione poi mi porta comunque ad avere la batteria del mac meno se vogliamo usurata nel tempo e quindi questa è una cosa che in realtà poi si potrebbe estendere ai vari prodotti ed è una cosa che onestamente nel 2020 solamente apple può fare e quindi la la questione può essere può essere poi gestita anche anche meglio continuando c'è per esempio la possibilità dice andrea di visualizzare lo stato della batteria dei dispositivi bluetooth connessi e io qui apro veramente il mio cuore a questa definizione ma soprattutto io mi auguro che apple poi possa in un modo o nell'altro concepire appunto una schermata proattiva in cui ho lo stato di tutti i miei dispositivi legati all'ecosistema ne parlavamo settimana scorsa per quanto riguarda l'applicazione o meglio la schermata dei widget di ios ne parlavo lunedì dicendo che tutto questo potrebbe tranquillamente rientrare nel menu a comparsa dei widget che abbiamo da da ipad os 13 e tutto questo potrebbe tranquillamente essere integrato anche nella schermata oggi che per esempio sui portatili si ottiene facendo uno swipe con due dita verso l'interno del trackpad c'è quindi veramente un menu proattivo contestuale che mi va non solo a far vedere in questo momento io vedo la data le previsioni del tempo i stat menus i pro memoria ma mi va a far vedere magari anche quello che e qui butto una mia un mio desiderio che vorrei vedere nella prossima versione di ipad os magari gli anelli di apple watch nella menu bar del mac perché magari se io sono al computer e ho le notifiche appunto che mi compaiono a computer la questione legata all'ecosistema magari ho il il telefono in non disturbare ma comunque la notifica dell'alzati in piedi ecco mi piacerebbe vedere che mi mi spuntasse su mac o addirittura vedere gli anelli ad esempio nella status bar nella menu bar continuando e qua veramente è un qualcosa che onestamente non riesco a spiegarmi perché la stessa apple faceva dei prodotti ottimi le time capsule quindi la possibilità di fare backup all'iphone ma in casa quindi io avevo questa torretta con degli hard disk dentro quando io mettevo il mac in carica la questione era semplicissima quindi mi facevo il backup su questi hard disk in maniera veloce ottimale alla apple questa cosa adesso non avviene più apple non permette più di avere sui hard disk per fare un qualcosa del genere ecco andrea dice una cosa che io vado avanti a desiderare da anni time machine su icloud quindi io ho la possibilità pagando perché io per esempio ho una macchina con un hard disk da 256 giga ovviamente ho dei contenuti per cui se io voglio fare il backup di una macchina da 256 giga devo acquistare un piano da un tera un piano famiglia da 2 tera per cui magari devo spendere 10 euro tutti i mesi quindi apple guadagnerebbe 120 euro all'anno solo da parte mia quindi ovviamente una cosa del genere potrebbe tranquillamente essere semplicemente aggiunta ad un qualcosa che già adesso avviene perché appunto la possibilità di fare backup con time machine c'è quindi ho la possibilità di comprare un ssd esterno collegarlo al mac e fare il backup dei miei dati però comunque una soluzione tra virgolette arretrata perché io devo comunque avere un secondo dispositivo che mi va in qualche modo ad integrare se vogliamo un una procedura cioè io devo connettere fisicamente un hard disk al mio computer ecco se tutto questo fosse in cloud magari anche con la possibilità di replicare il computer tra due mac magari ho un mac fisso e un mac portatile ecco una cosa del genere a me onestamente piacerebbe e non poco continuando e andando veloce anche perché è già passata mezz'ora dall'inizio della puntata la condivisione schermo via facetime io prima dovevo far vedere un video io ho fatto sentire solo l'audio tramite scheda virtuale audio che ho creato e poi ho fatto un ingresso che ho dovuto impostare tramite loopback quindi la possibilità di appunto di mandare in streaming oltre al microfono del mac anche una traccia audio perché perché comunque è un qualcosa che faccio perché comunque quando ho una puntata quando ho un ospite in in puntata non è che sente solo la mia voce sente anche i jingle sente anche magari la musica eccetera eccetera per cui comunque è un qualcosa che io per esempio faccio perché comunque mi occupo anche della produzione di un podcast però mi viene in mente il classico amico ho un problema con il mac come faccio a risolverlo tranquillo facetime mi fa vedere il mac e quindi potrebbe essere una cosa carina continuando nuova grafica su iwork e quindi anche lì come dicevamo settimana scorsa la possibilità di avere un qualcosa di più innovativo anche appunto a livello della gestione dei file continuando condivisione oltre ovviamente alla condivisione schermo che io onestamente replicherei anche su ios e su ipad os come dicevamo settimana questa lunedì con la puntata su ipad la possibilità di condividere l'app salute e anche test flight per cui un sistema di beta molto più family friendly molto più facile da usare e quindi io poi posso gestire tutto ciò che faccio già per esempio su iphone e ipad ecco una cosa più più interessante potrebbe essere gestibile a a 300 a 360 gradi Alberto Bagnoli dice miglior gestione degli airpods e ovviamente il menu contestuale a comparsa che per esempio si può fare tramite airbuddy l'applicazione di guillermo rambo onestamente io lo trovo lo trovo molto 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 utile continuando e prendendo sempre lo lo spunto da Alberto diciamo che potrei tranquillamente condividere a cuore aperto anche perché appunto ne ne parlavamo prima con Catalina la possibilità di avere ad esempio con Catalis più che Catalina quindi le applicazioni veramente universali quindi io pago una sola volta la possibilità di avere l'applicazione per iPhone iPad Mac Apple Watch con un solo acquisto e quindi per esempio la possibilità di avere uno store unico anche che poi mi permette anche di scaricare un'applicazione sui vari dispositivi e quindi e quindi ad esempio posso anche comprare un'applicazione per Mac da iPhone oppure posso comprare un'applicazione per iPhone da iPad oppure posso scaricare sull'Apple Watch tramite il Mac un'applicazione visto che come poi appunto parleremo settimana prossima la questione legata se vogliamo anche ad una gestione più indipendente di Apple Watch potrebbe arrivare anzi speriamo che arriverà in questo 2020 continuando e andando avanti sicuramente parlando di App Store come dice Andrea Bellini minore restrizione su App Store e aumento della percentuale di guadagno per gli sviluppatori per incentivare e sviluppare Mac OS anche poi come appunto discuteremo a giugno una maggiore integrazione tra applicazione per iPhone e iPad e quindi poi tutto ciò porta ad avere un bagaglio di applicazione più universale continuando e andando avanti apertura Link Safari in background con due tap con un tap tramite due dita come avviene su iOS ordinamento file cartelle nel finder come su come in Windows continuando desktop multipli e a me per esempio piacerebbe anche avere poi nel mio utente il desktop lavoro il desktop casa ma anche due ambienti separati pur avendo lo stesso ambiente quindi non è che devo creare l'utente lavoro l'utente casa mi piacerebbe avere una work mode e una vacancy mode non so bene come definirla comunque appunto un qualcosa da portare avanti in maniera se vogliamo parallela che poi porta magari anche ad una gestione condivisa ad un ad un qualcosa di di veramente di veramente 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 interessante sfondi animati e come dice anche il buon per manuele sberni sistema di tag nel finder più complesso che quindi poi mi porta ad una maggior se vogliamo anche integrazione con il con spotlight quindi la possibilità di cercare le stesse gli stessi file in maniera completa nel mac e poi la condivisione su iCloud di cartelle a scelta come appunto oltre a documenti scrivania e io aggiungo per esempio la possibilità di avere i download gestiti in maniera unita e non semplicemente dovendo linkare una cartella all'interno per esempio dell'applicazione download e poi ragazzi veniamo a quello che potremmo definire se vogliamo il vero e proprio momento serio e quindi direi che ci vuole anche una siglettina per quale motivo perché per la prima volta abbiamo assistito ad una di partita purtroppo lo scorso anno abbiamo citato qualcosa o meglio abbiamo detto addio qualcosa che nella storia moderna di Apple ci ha portato se vogliamo anche poi ad avere la stessa azienda molto coesa che conosciamo anche oggi e tutto questo in un modo o nell'altro può essere semplicemente chiamato iTunes è stato un software che ha fatto la storia dell'informatica ed è un software che a me manca parecchio eccolo detto perché Apple tramite il Finder ha fatto qualcosa che funziona addirittura peggio di iTunes e la cosa interessante è che non riesco ancora ad utilizzarlo è un qualcosa che funziona male io non so esattamente per quale motivo però non faccio mai il ripristino dei miei dispositivi anche perché fortunatamente ogni anno avendo appunto in mano dispositivi nuovi non mi si appesantiscono però se vogliamo uno sfizio che mi tolgo piccolissimo e sostanzialmente inutile è quello di avere se vogliamo un Mac con due cavi USB-C Lightning e USB-C USB-C e io onestamente apprezzo la possibilità di aggiornare tramite il Finder ragazzi devo confessarvi che ogni volta è una sofferenza cioè quelli di Apple sono veramente e quindi tra le varie cose ragazzi succede che di anno in anno l'aggiornamento dei miei dispositivi diventa sempre più deprimente il ripristino dei dispositivi diventano sempre più deprimente addirittura ho dovuto fare prima l'accesso con l'iPad Pro nuovo con l'iPad Pro 2020 e poi ho dovuto ripristinare perché mi si sconnetteva dal Finder quando facevo autorizza il dispositivo il dispositivo mi scompariva e quindi veramente o mi auguro il ritorno di iTunes perché almeno quello funzionava leggermente meglio oppure in un modo o nell'altro ragazzi mi auguro che Apple possa fare un qualcosa di neanche di innovativo un qualcosa che che veramente funzioni funzioni veramente 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 meglio perché un qualcosa che che deve funzionare per cui direi che questa puntata per la puntata in sé può finire qua però come dicevamo prima questa puntata non è una puntata come le altre questa puntata è un numero tondo in realtà il numero tondo magari si sarebbe già raggiunto qualche puntata fa però in questo 2020 che purtroppo non è un anno tradizionale ma comunque se vogliamo è un anno che per tanti punti rivista sta cambiando delle prospettive in podcast per quanto mi riguarda è sempre stata una costante di di questi di questi miei ultimi anni mi ha fatto conoscere veramente delle persone meravigliose c'è mi sta dando la possibilità di entrare in un mondo che io prima vedevo semplicemente dal di fuori e comunque una cosa del genere mi ha poi portato comunque a costruire anche semplicemente amici perché non non sono superiore a tante persone con cui parlo con cui mi sento su twitter su telegram e quindi la possibilità di discutere perché alla fine è una discussione che ci porta poi semplicemente a capire quello che quello che poi alla fine non possiamo che voglio continuare a portare avanti anche con con Alberto perché comunque è bello e comunque la possibilità di avere appunto un posto per raccontare una passione è qualcosa che che mi ha sempre in un modo o nell'altro affascinato perché 250 puntate possono sembrare poche da ascoltatore di Easy Apple che ha superato le 450 puntate da ascoltatore di Digitalia che ha superato 500 puntate mi sento veramente uno agli inizi però comunque capendo se vogliamo il l'inizio di di un qualcosa che poi di settimana in settimana tende se vogliamo a crescere è veramente un un piccolo sogno che che mi si sta che mi si sta praticamente realizzando che stiamo realizzando insieme io al microfono e voi che dall'altra parte mi mi sentite mi supportate mi date semplicemente degli spunti perché comunque vi ricordo che nelle note dell'episodio ci sono anche tutti i link per contattarmi su Telegram su Twitter su Facebook su Instagram insomma c'è la possibilità di capire poi quello che quello che in sostanza è è un qualcosa di di speciale perché alla fine è una passione è una passione è una passione bellissima la tecnologia e di settimana in settimana di anno in anno quando poi si avvicinano alcuni alcuni eventi la WWDC lo sto la stiamo la stiamo in qualche modo vedendo vedendo adesso come come inizio però tra le varie cose appunto c'è la possibilità anche poi di in ogni caso poi di avvicinarci a quello che è l'iPhone a settembre e e anche parlarne parlare insieme tra tra due lunedì ci sarà un ospite la mia prima ospite in un iPod Guy ne sto ne sto già scrivendo una per portare anche Alberto su su quel podcast ci sono altri ospiti che che verranno a trovarmi qua per cui alla fine la tecnologia è un qualcosa di di aggregante e oggi che per me è una giornata decisamente speciale anche peraltro la tecnologia mi ha fatto anche capire che che comunque è una piccola fiammella che poi può aumentare può aumentare tutto un un qualcosa di qualcosa di di importante perché comunque la possibilità di capire come un progetto del genere possa portare fuori discussioni è una cosa che che mi che mi ha sempre che mi ha sempre entusiasmato e quindi per questa duecentocinquantesima puntata volevo dirvi che Io e Tech finisce qui questa è l'ultima puntata di no no sto scherzando volevo ringraziarvi tutti per per la compagnia per darmi la possibilità di settimana in settimana di di mettermi davanti il microfono di raccontarvi qualche mia opinione e mi è piaciuto che tra le varie cose questa puntata è capitata proprio oggi il il 13 ma soprattutto che è capitata durante un progetto di questa portata perché Maggio S è un qualcosa di piccolo però come ho ripetuto anche settimana scorsa è un progetto corale ho citato i nomi delle persone che mi hanno aiutato a compilare questa lista quindi Andrea Bellini Alberto Bagnoli Michele De Paola Piermonio De Sberni ma ringrazio anche Gian Piero Spinelli ne citerò altri nelle prossime settimane per poi parlare ancora di servizi di watchOS in sostanza la cosa bella è veramente l'aggregazione che che ci unisce per cui ci tenevo a fare magari questa fine un pochino sentimentalina con la musichettina sotto ma volevo veramente ringraziarvi di cuore per supportarmi di settimana in settimana per andare a lasciare le vostre recensioni su 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 iTunes su podcast su Mac e iPad e direi che alla fine per quanto riguarda l'appuntamento con ietech è per settimana prossima sempre di mercoledì sempre alle 17 sempre per raccontarci la tecnologia insieme perché alla fine la tecnologia è una passione che non ha limiti e quindi grazie di tutto e ci sentiamo mercoledì prossimo un pochino